Lecce Cosplay & Comics. Alla quinta edizione è già un appuntamento che migliaia di appassionati considerano imperdibile. Questo festival del fumetto, pieno di spettacoli, si svolge subito dopo la chiusura della Fiera del Fumetto Romana e riesce ad attrarre a sud tutti gli appassionati del fantasy e del cartoon. C'è stato spazio anche per celebri youtuber come Dario Moccia, un critico di cartoni animati giapponesi che è riuscito a totalizzare 200.000 click a video. Lui parla di nerd cultura, comunque nei fumetti di cultura e di arte ce n'è davvero tanta. Tra gli ospiti di questa edizione c'è stato anche Andrea Mossa, illustratore colorista, sul quale la Marvel ha puntato tantissimo, che ha spiegato ai visitatori come funziona la colorazione digitale americana. Per i partecipanti, che hanno curiosato tra i vari laboratori, sono state due giornate molto istruttive. All'interno dello spazio uno speciale contest è stato dedicato agli accessori e per i partiti di videogames, una interessante area dedicata ai videogiochi.